Confermo che quelli bravi fanno una cosa molto diversa rispetto a uno normale. Hanno questo approccio cosiddetto in inglese di second level thinking or second order thinking or blah 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 thinking. In pratica, davanti a un problema, facciamo un esempio scacchistico, se sei un carciofo come me, tu guardi la scacchiera e dici che faccio adesso? Aspetta, aspetta, c'è la regina che posso papare e mangio la regina con mio cavalluccio, andiamo! Peccato però che appena papi la regina era un trappolone e ti cucchi scacco matto. Uno invece è bravo, va un passaggio oltre e si pone sempre la domanda e poi quali sono le conseguenze a catena di quell'azione? Hanno questa capacità di anticipare più mosse, più avvenimenti. Ti faccio un esempio che mi ha sempre molto colpito. Ai tempi dell'esplosione di YouTube, quando Grillo, Beppe Grillo, iniziò a fare video su YouTube, faceva dei numeri pazzeschi e il suo concorrente in sostanza era Berlusconi, partito di Berlusconi. La cosa interessante in quel momento è che i video di Grillo facevano decine di milioni di visualizzazioni, facevano dei numeri pazzeschi. Era chiaro però un po' a tutti che anche quello diventava un terreno dove combattere la battaglia politica. Il problema però è che Mediaset in quel periodo fece causa a YouTube perché c'erano contenuti illegalmente caricati su YouTube. Giustamente l'azienda dice, oh zio, non puoi permettere il caricamento di contenuti e ci fu una mega causa. E di fatto smisero di caricare contenuti. Fino a qua il ragionamento non fa una grinza. Il problema è che questo ragionamento non è di second order thinking perché non ha considerato il fatto che avendo una causa in corso e bloccando tutti i contenuti di Mediaset su YouTube, a quel punto tu lasciavi porte aperte alla Renault a Grillo che era l'unico di fatto a far numeri sui social e in quel momento YouTube era rilevante. Questo ha aperto le porte al Movimento 5 Stelle e bla bla bla. A prescindere dalla valutazione politica che puoi avere, però è molto interessante vedere come una decisione giusta, quella di fare causa perché tu mi stai piratando i contenuti o in qualche modo lo stai permettendo. Di fatto però possa avere una conseguenza problematica molto maggiore poi per il gruppo, quello che era insomma Berlusconi. Mi sono chiesto, Monti, Monti, come fai a migliorare il tuo second level thinking nei scacchi, nel lavoro e nella vita possibilmente? E ho assemblato 5 suggerimenti di buon senso partendo da Warmarks che ha scritto il libro sul tema degli investimenti ma che poi è applicabile un po' a tutto quanto. Il primo suggerimento è quello di partire dalla domanda che dicevamo che cosa succede dopo e poi che cosa succede. Facciamo l'esempio oggi di uno YouTuber che vede quali sono i contenuti che ci sono su YouTube e dice sai cos'è? Per fare i views mi cospargo di Nutella e mi butto nella braccia tibetana. Fantastico! Quel tipo di ragionamento probabilmente gli fa fare un botto di views. Ok, scelta dal mio punto di vista molto opinabile che non suggerisco ma nel momento in cui lo fa questo fa un botto di views e dice ah zio Monti hai visto che faccio le views, yeah! Vero, però nel momento in cui ragioni come Second World Thinking penserai però queste views nel breve periodo mi hanno dato un vantaggio nel lungo periodo mi bruciano o mi bruciano proprio a me il senso fisico perché prima o poi la braccia tibetana brucia oppure ti distruggi la tua reputazione facendo le robe abombinevoli di cui un giorno ti vergognerai clamorosamente o magari ancora peggio tu non volevi fare il video cosparso di Nutella volevi fare dei video dove parlavi di filosofia leggendo poesie ma se questo ti piaceva fare e l'algoritmo ti ha spinto a fare una scelta contraria se invece il nostro amico si fosse posto la domanda del secondo ordine di conseguenze e del lungo periodo questo è il secondo consiglio ragionare nel lungo periodo non solo nel breve periodo a quel punto via di poesie terzo suggerimento che caldo fa porca paletta è vero o no? qua in Guitare fa un caldo che sembra di essere in Sardegna includere gli altri per provare a aprire la capoccia provare a avere altre persone che hanno altre visioni altre prospettive spesso il problema qual è non so se ti capita a me succede sempre sei in una ideologia rigida sei abituato a affrontare un problema con un'ideologia rigida l'abbiamo parlato miliardi di volte avere più persone diverse che vedono il problema da punti di vista completamente diversi aiuta un sacco tornando all'esempio degli scacchi se c'hai un allenatore un po' capace a quel punto vede una situazione e ti dice qual è la conseguenza qual è il risultato delle tue azioni perché sarebbe sbagliato fare una mossa o un'altra e questo vale in tutto quarto suggerimento è di non scartare troppo velocemente le opzioni che hai sul tavolo cioè tenere sul tavolo più opzioni anche quelle che ti sembra più assurda più folle più che non c'entra assolutamente niente perché non si sta mai ragionandoci continuando a girare il cubo da tutte le parti aspetta aspetta però ora che lo riguardo da quest'angolo qui lo risolvo qua sai che non lo so più risolvere il cubo ruby ruby cub e poi ultimo consiglio è continuare ovviamente allenarsi è come tutto un fatto di allenamento di abitudine dopo un po' ti diventa normale ragionare non solo il primo gradino secondo il terzo quarto e quinto e metti settesimi insomma se ci riesci fammi sapere un po' ti diventa un po' ti diventa